Vederlo, così duro ma fragile, trasparente ed eica, è il vero. Colpio dai nostri occhi, volentieri il torneria a sabione, forse perché il si sente manco sicuro sotto i nostri occhi che sotto i nostri piedi, ma adesso che il si fuso è il sesta luce. E forti man dei maestri vetrai che l'ho gaffato e tanto gappatio per farlo. Sta arte ne se sta rubata all'Oriente più di qualche millennio fa, ma adesso a morano è pura eternità. Dal fuoco è diventata di cattessa, leggeressa e a volte anche di una certa durezza, dove dai fiammi dei fornasi, dai sentieri e dai foghi, si trasforma e diventa arte e bellezza. Grazie.